Una festa che ha abbracciato tutta la città, quella dell'Arma dei Carabinieri, per i suoi 209 anni di storia, che ha coinvolto militari e cittadini. Come lo scorso anno, il Comando Provinciale dell'Aquila, con il colonnello Nicola Mirante, ha deciso di tenere la cerimonia all'emiciclo, con tutte le iniziative che si sono snodate alla villa comunale, con attrazioni per i più piccoli, stand dimostrativi dei vari reparti dell'Arma, sino ad arrivare alla cerimonia finale, con lo schieramento di una compagnia e rappresentanza di tutti coloro che prestano servizio in provincia. Tantissimi visitatori, soprattutto studenti del capoluogo e della Marsica, guidati in percorsi tra mezzi di soccorso, macchine dei Carabinieri, uniforme e natura, grazie ai Carabinieri forestali. Tante le istituzioni che hanno preso parte della cerimonia, ma anche semplici cittadini, a testimonianza del rapporto sempre più forte tra la cittadinanza e i Carabinieri, sono state consegnate anche delle attestazioni di merito da alcuni studenti delle medie che hanno partecipato al concorso letterario Il Carabiniere, una mano tesa, verso chi chiede aiuto, e sono stati consegnati inoltre dei riconoscimenti ai militari che nel corso dell'ultimo anno si sono particolarmente distinti per le loro attività. Il bilancio dell'attività è senz'altro positivo e lo ha tracciato il comandante provinciale Mirante, tanti risultati operativi conseguiti dai militari dell'arma, tante le operazioni, a testimonianza dell'efficienza dell'operato quotidiano dei Carabinieri.